La Giunta oggi ha approvato l'ostanziamento di 50.000 euro per un cosiddetto fondo amianto, ovvero sia per aiutare a seconda delle fasce reddituali, quindi maggiormente quelli con fasce reddituali basse e via via a scalare, tutti i privati cittadini che vogliano provvedere alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto sulle proprie coperture o delle abitazioni o delle pertinenze. Il finanziamento arriva fino a 5.000 euro per intervento.